Bene ragazzi, allora facciamo chiarezza sull'attivazione e sblocco del vostro CarPlay su Audi. Allora, su questo sito ovviamente è pubblico e basta scrivere sblocco mappe Audi MHS2 come c'è scritto qui e come potete vedere ha 332.000 visualizzazioni. Le persone non hanno i prosciutti agli occhi, scrivono su Google e trovano ovviamente l'attivatore di Congo e lui che l'ha fatto, non io. Io ho soltanto preso il suo PDF che ha creato ed è qua dentro in questo sito che dopo vi pubblico la foto. Eccolo qua, eccolo qua. Molto molto semplice. Ho scritto su Google e mi è uscito il secondo. Il secondo risultato è questo, non ho fatto nient'altro. Lo trovate dentro qui, cioè non è nulla ed è un file anche dell'anno scorso ma è anche molto vecchio comunque perché questa versione di Congo funziona con MHS2, quindi con Delphi, perfino a partire dal 2016. Quindi, cioè, pensate che non l'ho creato io. Ovviamente questo software riesce a sbloccare tutto. Cioè, ve lo ripeto, io non sono un ingegnere, non sono una persona che fa software, ok? Io ho soltanto preso il file, ok? E fatto anche nella mia auto, ho fatto lo sblocco come vi ho fatto anche vedere nel video sul canale rosso. Quindi ecco qui che sblocca il CarPlay Android Auto con questi codici qui, ok? E anche le mappe a vita. Quindi come potete vedere qua è tutto legale, cioè sono codici legali. E a questo punto si può avere il CarPlay Android Auto. Ma come? Calma ragazzi, perché il video che è della scarpetta da 40 euro è andata viralissima. Certo, 40 euro, una scarpetta che si compra su Aliexpress, ma non è una scarpetta originale, ma bensì compatibile, cioè con tutti i carismi, tutte le tecnologie del mercato cinese, ok? Però ovviamente non è proprio originale, però funziona, però non è originale. Ovviamente se l'ho comprata in Italia, questa scarpetta costa, e comunque questo video qui della scarpetta, ok, modificata. Ecco qui il video della scarpetta, questa qui modificata, non l'ho creato io, è già online da circa tre anni o anche di più, dove si sostituisce la Charge Only, perché è soltanto di ricarica, con questa qui risparmiando 100 euro circa, ok? Eccolo qua, 100 euro circa, si risparmia. Quindi montando questa si risparmia. Ovviamente, come ho detto prima, bisogna fare lo sblocco, ok? Quindi, questo sistema, questa scarpetta comunque, va bene anche con sistemi MHI2, ok? Per intenderci questo software qui, ecco qua, MHI2, MHI2Q. Quindi la scarpetta, ritorniamo qui, questa scarpetta può essere utilizzata tranquillamente con quegli altri sistemi software, ok? Quindi Audi anche fino al 2019, ok? Che hanno questo tipo di software MHI2. Ovviamente, questo è un sistema che vi fa risparmiare se montate questa scarpetta, ma chi la sa montare? Oh, se voi avete dei dubbi, è chiaro, non lo fate il lavoro, affidatevi a un installatore professionale. O altrimenti seguite il video che ha fatto, lo trovate su YouTube, o il video che ho fatto io per fare la sostituzione della scarpetta. Perché ci sono le persone che sono brave con il fai da te e ovviamente cercano di risparmiare al massimo, ok? Quindi, ecco qui la scarpetta per ovviamente abilitare il carpello Android Auto. Ma non è finito qui, perché, un attimo, una volta sbloccato il carplay, cioè la questione... Cioè qui, una volta sbloccato questo, questo codice software, ok? Bisogna sbloccare poi, ovviamente, con il famoso OBD11, questo qui, con la licenza Pro, quindi il Pro Pack, ok? Cioè non soltanto il dispositivo, questo qui, perché questo qui legge soltanto gli errori e basta. Avete bisogno della licenza. Quindi io, con OBD11, ho l'affiliazione, è chiaro, e c'è anche il codice sconto. Quindi, e avete anche voi il codice sconto. Quindi, Danilo Garage, scrivete, avete il codice sconto di questa gecgino. Ecco qui, per intenderci, sul mio Telegram, lo pubblico, guardate, ci sono 10 euro di sconto su questo gecgino. Quindi comprate sia questo con la licenza, quindi il Pro Pack, non soltanto questo qui. Quindi, una volta fatto tutta questa attivazione, sblocco con Congo, cambio della scarpetta e quant'altro, avrete bisogno di questo qui per poter poi codificare e attivare, ovviamente, l'iconcina dell'Audi Smartphone sul vostro MMI. Altrimenti non vi comparirà nulla. Ecco qui, vi comparirà proprio qui l'iconcina dopo la cartina, se non ricordo male. Vi compare proprio, che qua manca, ecco qua, vi comparirà proprio l'iconcina dell'Audi Smartphone, che si attiva soltanto dopo lo sblocco con il Congo e dopo l'attivazione con questo qua. Ora parliamo di costi, parliamo di costi, ragazzi. Questa gecgino costa, come avete visto, 90 euro e dura un anno, o meglio, la licenza dura un anno. Dopo un anno dovete acquistare, no, di nuovo 49 euro costa, ok? Quindi costa, questo costa tanto. E lo sblocco lo trovate su internet, quindi, cioè, questo, ok? Poi, ovviamente, bisogna l'acquistone scarpetta. L'acquistone scarpetta, se comprate quella della Golf 7 da AliExpress, risparmiate, è compatibile, funziona, fino a quando funziona, o c'è quello originale, da comprato originale, e ha il suo costo. Oppure c'è la scarpetta, quella, Charjolly, della forma di Charjolly, però, con la scritta, ovviamente, di smartphone interface, quindi c'è l'iconcina della USB. Quindi, fatto questo, ragazzi, in pratica, lo sblocco è fatto. Bisogna vedere se a voi conviene fare questa spesa, oppure affidarvi a un installatore, vi fa il lavoro completo e vi fa un totale, ok? Quindi, lo vedete voi stessi, quindi quantificate voi se fare il lavoro, smontare la macchina, i pezzi, quantate in materiale per smontare la macchina, fate voi una quantificazione del costo, ok? Se vi conviene o meno, altrimenti vi affidate un installatore e basta. Quindi, ragazzi, spero che con questo, su MHS2, è tutto. E chiudo qui, diciamo, le polemiche per quanto riguarda l'installazione, ok? Ciao, ragazzi!